Una buona serata, nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con l'inchiesta Pescara Porto è in merito a questa inchiesta e ad un eventuale processo a suo carico Il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, questa mattina ha contrattaccato Parlando di manine che consegnano carte e di spettacolo giudiziario il servizio di Paolo Rezzetti Mi aspettavo di essere il primo a ricevere quest'atto e per l'ennesima volta lo leggo sui giornali Spero che prima o poi io riesca a individuare questa manina o queste manine che sono così interessate allo spettacolo giudiziario Francamente sono molto infastidito e troverò qualche iniziativa per mettere alla berlina coloro e colui il quale organizza questa gestualità distributiva Prima che l'interessato sappia e conosca Detto questo mi sembra un'inchiesta che farà molta fatica a cercare di mettere in evidenza la distinzione tra verosimiglianza e verità E mi dispiace che farà molta fatica perché io penso che debba essere facile mettere in evidenza la verità Io parteciperò anche a questo procedimento giudiziario versando in atti patrimonio conoscitivo e documenti Nella speranza che trovino idoneità di lettura e di rilettura Io penso che debba essere una garanzia del cittadino quando viene sottoposta ad accertamento conoscitivo Che si leggano con attenzione tutti gli elementi Parliamo di una concessione di Rizia del 2012 Del 2012 che non è esattamente il giorno corrente E parliamo di un'attività inibitoria per quanto riguarda le vicinanze del fiume Che questa giunta e questa persona giuridica hanno stabilito come attività inibitoria Dopodiché sono pronto a rendere ulteriore collaborazione Affinché la complessità del diritto urbanistico e del diritto amministrativo Trovino facilitazione di lettura Presidente, poche ore fa è arrivato il pronunciamento del Tribunale dell'Aquila Sulla sua presunta incompatibilità è stato respinto il ricorso del Movimento 5 Stelle Che però ha detto che andrà avanti Ma io ho comprensione del Movimento 5 Stelle Non perdono occasione per radicalizzare il loro punto di vista nella lotta politica I documenti, la giacenza anche della giurisprudenza, la lettura idonea del diritto Fanno capire che un senatore della Repubblica è subiudice fino alla validazione dell'aggiunta delle elezioni Io sto aspettando questo passaggio Per il resto in questo caso non sono infastidito delle iniziative giusdicenti delle opposizioni Diciamo è un 30% della loro natura e delle loro attività Cronaca adesso, purtroppo si tratta di cronaca nera Perché una donna di 47 anni di Pineto è morta questa mattina In un incidente stradale avvenuto sulla statale Adriatica 16 a Roseto degli Abruzzi Queste sono le immagini dei colleghi di cityrumors.it Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polstrada di Teramo Diretti dal comandante Pietro Primilo Scooter condotto dalla donna Alessandra Muzzi E' stato travolto da una Volvo che si stava immettendo proprio sulla statale da una via laterale Sul posto per i soccorsi sono intervenuti gli equipaggi del 118 e dei vigili del fuoco Ma per la donna non c'è stato nulla da fare Vedete le immagini della Volvo a centrostrada con lo scooter di Alessandra Muzzi che è stato travolto Andiamo all'Aquila adesso Appalto pulizia progetto case al ribasso ad una ditta di Salerno Il consigliere comunale De Santis porta gli atti in procura e accusa l'amministrazione Atti in procura all'ANAC è un'interrogazione urgente per far revocare l'appalto per la pulizia di progetti case MAP Alla ditta di Salerno che al ribasso si è giudicata al servizio la Cooper Pool Che secondo il consigliere comunale Lelio De Santis dichiara di essere una cooperativa ma non lo è di fatto Una società che ha detto il consigliere dichiara un utile di circa 1700 euro l'anno E che ricatta il comune così sostiene De Santis dicendo che si limiterà ad abbassare l'orario di lavoro ai dipendenti del 20% Ma solo si avrà altre attività Oltre a questo senza rispettare il bando dice De Santis l'azienda ha ricollocato 26 lavoratori su 28 dipendenti Che percepiscono tra le altre cose dei salari minimi Dobbiamo alzare la testa dice De Santis e far sì che gli atti siano regolari nel rispetto della città Il verbale dell'ispettorato del lavoro parla chiaro a suo giudizio Io sto facendo da tempo una battaglia in nome della legalità, della trasparenza e dell'efficienza amministrativa Al di là delle collocazioni politico-partitiche Perché in questa città nel cantiere più grande d'Europa, più ricco d'Europa C'è povertà, disoccupazione, imprese locali che non lavorano E c'è un ingresso spesso un po' forzato di imprese che provengono da fuori Aggirando anche le norme con ribassi spaventosi Che poi diventa difficile consentire la realizzazione dell'opera o dei servizi E nel caso specifico io ho anche altri dubbi Che ho fatto presente in sede di commissione ripetutamente e anche pubblicamente E che con un ribasso del 49% difficilmente si può garantire quel servizio E con una dichiarazione esplice dell'impresa che avrebbe fatto un utile in un anno di 1700 euro E' chiaro che qualche sospetto viene La risposta è stata subito dopo quando l'impresa ha avuto aggiudicato il servizio Ha ufficialmente comunicato la riduzione dell'orario di lavoro per le 28 unità Di 24% e poi in sede di confronto presso l'ispettorato del lavoro a 20% Cioè significa che ogni dipendente avrà una riduzione del 20% Mentre la norma prevede il mantenimento e lo stesso bando di gara Il mantenimento dei livelli di occupazione dei livelli retributivi Questo non è avvenuto e in sede di confronto presso l'ispettorato Lo stesso ispettorato ha rividenziato questa negatività che contraddice la norma Che mette in difficoltà gli operai che già percepiscono somme modestissime Ecco perché io invito con l'interrogazione, con la richiesta di convocazione La commissione controllo alla revoca in autotutela del provvedimento Perché questo sarebbe un precedente molto pericoloso Che inquina il sistema degli appalti Siamo a Chieti, adesso il collegio dei revisori dei conti ha espresso parere negativo Sull'assestamento del bilancio di Chieti Invitando l'amministrazione comunale ad avviare la procedura per il predisesto Questa mattina il contrattacco del sindaco Umberto Di Primio Secondo il quale ci sono sviste e omissioni nel parere del collegio Il primo cittadino invita i revisori a intervenire in consiglio comunale Per rendere conto di questi errori di valutazione Il servizio di Gino Di Tizio Il collegio di revisori dei conti ha confermato un atteggiamento valutativo Che aveva avuto già lo scorso anno Quindi non ci meraviglia la presa di posizione Ma a differenza dello scorso anno invece dobbiamo annotare alcune questioni rilevanti Che ci fanno dire che questo parere non è assolutamente condivisibile Il bilancio, l'assestamento di bilancio quadra non soltanto contabilmente Ma quadra anche con le azioni post in essere da parte dell'amministrazione Allo stesso tempo tutto quanto viene posto a motivo del parere non favorevole del collegio Invece non ha alcun fondamento Mi riferisco al richiamo fatto al parere del nostro responsabile finanziario Il quale dice tutt'altro rispetto a quello che sostiene il collegio di revisori dei conti Mi riferisco al fatto che il collegio non pone attenzione su un numero Ma fa ipotesi negative e pessimistiche su quello che potrà essere il livello di capacità di rispetto Degli impegni presi dall'amministrazione E quindi non c'è un dato che possa far credere che sia valida la loro teoria A rispetto della nostra E soprattutto vi è una serie di eccezioni che sono assolutamente false La prima e la più importante è quella relativa alla non trasmissione del piano di rientro Dell'anticipazione di tesoreria L'anticipazione di tesoreria o meglio il piano di rientro dei flussi di cassa Era già stato previsto e già scritto nella delibera relativa al DUP E' stato poi anche scritto nella delibera che è stata posta all'attenzione del collegio di revisori Per l'assestamento della salvaguardia E quindi mi sembra che anche questo richiamo sia il frutto di una disattenzione da parte del collegio Che mi piacerebbe fosse in consiglio Chiediamo ufficialmente, chiederemo ufficialmente al collegio di venire in consiglio Perché motivi le ragioni di queste sviste, di questi svarioni Di queste omissioni, di queste letture non corrette degli atti che sono stati posti all'attenzione del collegio Ci sono responsabilità che vanno assolutamente coltivate E noi lo stiamo facendo E che ci sono cose da migliorare e che dobbiamo migliorare Poi è chiaro che se non si verificherà tutto quello che noi abbiamo previsto Siamo noi per primi a dire che ci sarà uno squilibrio Ma ad oggi non è possibile dire questo Partiti i lavori di riqualificazione e ristrutturazione dello stadio Valle Anzuca di Francavilla Il sindaco Antonio Luciani risponde al patron giallorosso Gilberto Candeloro Ma lo invita anche a restare a lungo al timone del sodalizio calcistico Vediamo Sindaco Luciani, Francavilla sta cambiando volto Tanti lavori sono in corso Alcuni sono stati conclusi Tra questi Piazza Sant'Affonso E anche lo stadio Sono partiti i lavori di adeguamento del Valle Anzuca in vista del prossimo campionato Ci tengo a precisare che il Valle Anzuca aveva la sua agibilità Poi c'è stata la visita nel mese di giugno di un ispettore della FIGC In occasione del rinnovo dell'autorizzazione quinquennale Che appunto la Federazione Italiana Gioco Calcio concede In quell'occasione ci sono state fatte alcune prescrizioni Io ho promesso che prima dell'inizio del campionato di Serie D Del prossimo campionato del Francavilla Calcio avrei eseguito tutti i lavori I lavori come promesso sono partiti e termineranno il 14 di agosto perfettamente in tempo Tutto chiarito con il Presidente Candeloro? Continua ad esserci un'incomprensione perché lui ci attribuisce delle colpe che secondo me non abbiamo assolutamente Questi lavori ne sono una prova Il Presidente Gilberto Candeloro avrà a disposizione uno stadio perfettamente agibile Aggiungo che è uno dei migliori impianti attualmente esistenti in Abruzzo per la Serie D E quindi lui deve pensare al calcio, deve pensare a far grande il Francavilla Io mi auguro che lo faccia e che resti con noi almeno per una decina d'anni Andiamo a pescare adesso novità sulla mobilità di via Regina Margherita nel fine settimana Se ne è parlato questa mattina in una conferenza stampa tenuta dall'assessore alla mobilità Giuliano Diodati Prevista l'installazione di due telecamere, vediamo Cambierà la maniera di applicazione dell'ordinanza Qui c'è già un'ordinanza vigente per cui il sabato e la domenica pomeriggio dalle 16 alle 20 Non è permesso l'accesso ai non residenti Dalla prossima settimana, quindi da questa fine settimana, sabato e domenica Verranno attivate le telecamere Naturalmente ci sarà un periodo di assestamento che sarà di 60 giorni Questo per permettere a tutti i residenti di una serie di vie che sono coinvolte da questa ordinanza Di poter richiedere i permessi alla Polizia Municipale o direttamente all'ufficio del Comune Perché in questa maniera qui, durante i momenti in cui ci sarà la chiusura della strada Loro potranno in ogni caso accedere nella loro residenza Si va verso la direzione di rendere più fruibile ai pedoni, ai ciclisti la zona centrale della città? È così? Si va verso la direzione di cercare di fare in modo che la città un pochino la liberiamo dalle macchine Ma fondamentalmente è anche un discorso di salute Nel senso che non sarà sufficiente ma intanto diamo questo segnale che in questi due giorni, sabato e domenica Una parte della città, una parte di una via cittadina che risulta essere fortemente inquinata Sarà chiusa ai non residenti Ripeto, noi non limiteremo l'accesso ai residenti Ci sono due telecamere posizionate, una all'angolo di via Regina Margherita con via Leopoldo Muzzi Un'altra all'angolo di via Regina Elena con via Di Amicis Per cui permetteremo l'accesso ai residenti Quindi sarà un'ordinanza abbastanza larga nelle maglie Perché permetteremo l'accesso ai residenti Per il resto delle persone bisognerà trovare per loro un accesso alternativo per poter venire in centro Siamo in provincia di Pescara perché oggi sarà lutto cittadino a Cugnoli Il paese in provincia di Pescara appunto Di cui è originaria la famiglia di Sergio Marchionne Lo ha proclamato il sindaco Lanfranco Chiola Dalle 10 alle 18 considerata la sincera stima, riconoscenza e gratitudine Che la cittadinanza ha sempre avuto nei confronti del dottor Marchionne Che è stato un grande uomo illustre personalità del mondo economico a livello nazionale e internazionale E che non ha mai dimenticato la sua terra d'origine E il paese di Cugnoli che ha dato i Natali al padre Concezio La decisione continua il sindaco Chiola In segno di cordoglio e vicinanza dell'intero paese alla famiglia Marchionne Le bandiere listate al lutto saranno esposte sulla facciata della sede comunale Fino a domenica prossima 29 luglio Fino a dopodomani Dunque andiamo a Montesilvano dove nasce la casa delle associazioni La sede è condivisa dai sodalizi montesilvanesi Una iniziativa all'insegna della solidarietà e dell'integrazione Da oggi a Montesilvano è in realtà la casa delle associazioni Si parla di integrazione, di lavoro verso le persone più povere e più svantaggiate Questo è anche il senso di questa iniziativa? Il senso è di ringraziare tutte quelle associazioni che per anni hanno lavorato in silenzio sul territorio Erogando servizi anche di eccellenza in assoluta gratuità e nell'anonimato Oggi a queste persone, a queste associazioni è l'amministrazione che dice grazie Mettendogli a disposizione una struttura per consentirli di continuare ad erogare servizi di eccellenza qualitativamente elevati Ma soprattutto cercando attraverso loro di fargli condividere un percorso di crescita Perché questa iniziativa si va ad associare alla Mensa dei Povri e all'Emporio Solidare Creando il polo della solidarietà qui a Montesilvano È uno dei piccoli centri di Montesilvano dove le politiche sociali raggiungono livelli di eccellenza Dobbiamo continuare a lavorare, a perfezionarci e soprattutto a condividere con le associazioni presenti sul territorio Quelle che sono le problematiche perché spesso le associazioni riescono ad arrivare laddove le istituzioni purtroppo si fermano Come amministrazione di Montesilvano state lavorando da tempo sulla strada dell'integrazione Sia con i cittadini italiani ma anche con i tanti stranieri che vivono a Montesilvano e sono accolti in questa città Montesilvano è diventata intransigente nei confronti di chi delinque E' il caso di Via Ariosto è esemplare dove abbiamo avuto il pugno di ferro nell'allontanare tutte quelle persone Che vivevano di attività illecite Siamo profondamente disponibili ad accogliere tutte quelle persone che hanno titolo per rimanere sul territorio dello Stato Che dimostrano di avere capacità di volersi integrare e soprattutto di mettere a disposizione del territorio le proprie iniziative Io penso ai ragazzi dello SPRAR che stanno svolgendo dei lavori gratuitamente per il comune di Montesilvano Sia per la spiaggia di Disabbi, nella cura del verde ma anche nell'erogazione dei servizi cimiteriali Sono tutti fattori di un'esemplare positività da parte di questi cittadini Che li deve mettere in condizioni di poter avere anche il riconoscimento dell'intera cittadinanza Prende il via oggi la manifestazione I muri raccontano i giochi di una volta nel suggestivo borgo di Azzinano Un evento che giunge quest'anno alla sua edizione numero 18 Con l'organizzazione della prologo di Azzinano del comune di Tossicia nel Terramano Vediamo Quest'anno arriviamo alla diciottesima edizione Sono stati anni molto impegnativi per l'associazione prologo e l'amministrazione comunale di Tossicia Che assieme al BIM sostiene questa bellissima iniziativa Quest'anno abbiamo il pittore Amedeo Marchetti Che tornerà a dipingere uno splendido murales nella piazza di Azzinano Inoltre venerdì 27 luglio partirà la festa della lavanda Quindi i bambini come ormai da tradizione vestiranno abiti da contadini E gireranno per le vie del paese vendendo i prodotti che sono stati realizzati dalle signore del paese con la lavanda Amedeo Marchetti che è di Trento è stato uno dei primi Anzi un pianiere proprio che ha impostato proprio lui il lavoro insieme ad altri due o tre pittori Periodicamente è ospite di Azzinano Essere due o tre anni che non veniva C'era un murales che avevamo intenzione di rivedere oltre a farne di nuovi E quindi è venuto soprattutto per questo Perché i murales di Azzinano sono conservati benissimo Grande attenzione da parte della cittadinanza Quando c'è qualche problemino o interviene l'Accademia di Belle Arti come succederà tra qualche tempo Oppure lo stesso autore che ha fatto la pittura Weekend ideale per gli appassionati di montagna e di arrampicata sportiva a Pietra Camela Due giorni di sfide e prove E la novità della cosiddetta Maratona Verticale Nel festival organizzato dall'Associazione Mondi Verticali Vediamo Siamo arrivati alla terza edizione di questo festival Che vede ovviamente l'arrampicata sportiva come l'attività principale Quest'anno grazie al contributo del comune di Pietra Camela Ci siamo prodigati in uno sforzo più intenso Nel promuovere anche altre attività comunque legate all'outdoor E quindi ci sarà la maratona di arrampicata Che si svolgerà nella palestra degli Aquilotti Ci sarà lo street boulder Che è una gara di arrampicata lungo i vicoli del paese Che si svolgerà domenica E tante attività collaterali Tra cui uno show di highline Si chiama così l'arrampicata Sono dei funamboli che camminano su una fettuccia sospesa nel vuoto Ci sarà l'orienteering Ci sarà lo yoga E quindi tante le attività Quindi vi invitiamo tutti sabato e domenica A 28 e 29 a Pietra Camela Pietra Camela è stata Ed è la patria degli Aquilotti del Gran Sasso Uno dei primi gruppi di arrampicata d'Italia La bella manifestazione dell'associazione Mondi Verticali Oramai la terza edizione È nata con noi e cresciuta con noi Abbiamo creduto in loro Ed ogni anno stanno crescendo e portando avanti Questa che è veramente uno di fiore all'occhiello Del nostro cartellone estivo Porteranno tanti appassionati Tante persone all'interno del borgo Nella piazza di Sopratore Nella storica palestra degli Aquilotti del Gran Sasso E prima adesso la pagina di sport Partiamo con il Pescara Perché il neodifensore bianco-azzurro Cristiano Del Grosso Racconta come è nata la trattativa Per arrivare a Pescara E dell'impegno che certamente metterà Per scalare le gerarchie di Pilon E conquistarsi una maglia da titolare Lo ascoltiamo Cristiano Del Grosso Hai esordito Diciamo da giocatore del Pescara Sui social hai detto Finalmente Rappresentare la mia terra Con questa maglia Sì esatto Finalmente Perché è da diversi anni Che ci seguiamo Ecco a vicenda E quest'anno Non sembrava Assolutamente Neanche Ci avrei quasi sperato Però invece poi è arrivata Nel momento in cui Non ci pensi Ti arriva una chiamata Che Per me è stato Un momento di gioia infinita Meglio tardi che mai Com'è nata? È nata che io ero Con il mio figlio E mia nipote In un torneo di pattinaggio Perché la mia nipotina È campionessa Di pattinaggio E ero al lago di Scanno E alle 2 Alle 15 pomeriggi Mi arrivano tre chiamate Il presidente Tra cui non avevo risposto Perché avevo il silenzioso E quindi Poi l'ho richiamato Mi ha detto Guarda in serata Vieni a Montesilvano Lì a Vestina Che dobbiamo parlare E io subito Sono andato Ti abbiamo visto Già abbastanza attivo Nella prima Sgambata Che conta quello che conta Però ti abbiamo visto Già attivo E pimpante Beh cerco di Di allenarmi E fare del mio meglio Devo dire Che mi sto trovando bene I carichi di lavoro Li sto sopportando bene Io ripeto L'importante È avere la voglia La testa giusta E l'impegno Poi è chiaro Che tutto viene Adesso Le prime settimane Sono un po' Li pago un po' Ma come tutto il gruppo Però queste partite Ci servono proprio per Diciamo Per mettere un po' di benzina Se dovessimo considerare Le scelte della società Crescenzi Era già andato via C'è sostanzialmente L'Isalde nel tuo ruolo C'è Liento Che giocava a destra Comunque è andato via Insomma Sembra che si punti molto Su di te Ma io Lo spero Ecco Io Cerco di fare del mio meglio Ripeto Mi impegnerò sempre So che Che questo gruppo Ha bisogno Dei giocatori Di esperienza Io mi metto a disposizione Per fare del bene A questi ragazzi E a questo grande gruppo Il mister È una persona È un uomo Molto pragmatico È uno che Che si basa Sui valori Reali Sui valori Soprattutto umani E questo è una buona base Per iniziare ad avere Un'importanza Di questi valori E traspetterli poi in campo Quindi io Cerco di Solo che fare Insomma Tutto di dare Più che ricevere Quindi Io sono a disposizione Il campo poi Dirà la sua E sicuramente Voglio lottarmela Per una maglia titolare E adesso Andiamo in serie C Andiamo in casa Teramo Giudizio e voto positivo Per il diavolo Nell'amichevole Contro il Pescara A dare un 7 È proprio L'allenatore Biancorosso Giovanni Zicchiella Che fa il punto Anche sulla trattativa Di mercato Che riguarda Il difensore Del Torino Alessandro Fiordaliso Lo ascoltiamo Vista Zicchiella È chiaro che non fa mai Piacere Perdere Però Nel primo tempo Soprattutto Abbiamo visto Ottime cose Del Teramo Bissando quello che Di buono Si era già visto Contro il Benevento Sei d'accordo? Sì D'accordissimo Voglio premettere Una cosa Perché In questi anni Quando poi ci sentiremo Sentirete anche Sempre La verità A Coverciano La prima volta Che mi sono seduto lì Nel 2008 Mi hanno detto Che l'allenatore bravo È quello che ha la cultura sconfitta Non riesco Io non ho nessuna cultura sconfitta Non so perdere Non gioco neanche Con i miei calciatori a carte Perché non voglio Perché quando perdo Mi arrabbio E quindi oggi Sono contento Della prestazione del primo tempo Il secondo tempo Così e così Ma mi girano A per caso Non sono contento Ci sbilanciamo troppo Se diciamo che Ragneri è il titolare Amadio alla riserva Non ci sono ancora Titolari riserve Perché tanto Fino al 25 26 agosto Mi ricordo bene La data È ancora lunga Tutti avranno Come dicevo martedì La possibilità Di mettersi in mostra Come giusto che sia Problemino Anche per Fratangelo Alla schiena Sì Questi sono i carichi Di lavoro eccessivi Per colpa del nostro prof Non scherzo E quindi Voglio dire In questo periodo Purtroppo avere i giocatori In condizioni impossibili Però Volevo spendere due parole Per il nostro professore Insomma L'anno scorso L'avete conosciuto L'avete visto Che persona è E quest'anno Sta di nuovo lavorando In silenzio Sta facendo Di nuovo Un ottimo lavoro Se dovessi pretendere Anche adesso Di avere la squadra A 2000 Sarei troppo egoista Piccioni per il momento Lo mettiamo in stand by Tulli in uscita Spiga in uscita Fiordaliso arriva Andiamo troppo lontani Dalla realtà Sì Tantissimo Perché in uscita I giocatori sono in uscita Quando vanno via Fino a quando sono qua Io li alleno E li riterrò In tutto E il completo Dei giocatori del termo Li allenerò Allo stesso modo Di tutti quanti gli altri Perché poi può capitare Il 25 Non c'è nessuna uscita E questo è un calciatore Che devo tenermi Fino al 30 giugno Quindi per me Sono tutti i miei calciatori Però Uno andrà in tribuna Uno andrà in panchina Uno sarà il capitano Uno batte le punizioni Quelle sono le scelte mie Però su Fiordaliso Siete ottimisti? Su Fiordaliso È un calciatore Che io Quando ero un tuo collego Su Sport Italia Che commentavo Le partite in primavera L'ho visto Quattro volte Al Philadelphia E tra virgolette Mi è piaciuto tantissimo Perché è un giocatore Che può giocare a destra Può giocare a sinistra E può giocare anche Il difensore centrale Quindi l'allenatore Per un allenatore Un 99 Possa fare tre ruoli Su tre Della difesa E allo stesso tempo Un 99 E non guasta Perché porta minutaggio Scendiamo adesso In serie D Dove non ci sarà più L'Aquila Che non si iscrive Al campionato E di fatto Sparisce I tifosi aquilani Hanno tappezzato La città con striscioni Per dimostrare Tutta la loro amarezza Sulla vicenda Del sodalizio Rosso-blu Sparito Per la terza volta In 20 anni Nessuno Ha effettuato L'iscrizione Daniela Rosone L'Aquila Calcio È finita Non è stata iscritta Al prossimo campionato Di serie D Si ripartirà da zero Come del resto Aveva auspicato Anche una parte Di tifoseria I Red Blue Eagles Nella giornata di ieri Hanno espresso Tutta la loro rabbia Tutti colpevoli Nessuno escluso Tutti sullo stesso piano Secondo loro Soci, dirigenti Vecchi e nuovi Politici, imprenditori Sciacalli IUS Giornalisti Ma anche comunicatori Collaboratori E tifosi Appellati in un modo Che in tv Non si può ripetere E poi Un sonoro invito Ad andare tutti A quel paese Ma non solo Perché in città Nei cantieri Della ricostruzione Di Chiodi Mancini Cioè la proprietà Ma anche di Elisao Iannini Che con un comunicato Aveva detto di non essere Interessata all'Aquila Calcio Quando invece Era stato accostato A delle trattative Per rilevarla Insieme ad altri Imprenditori aquilani Sono comparsi Striscioni inequivocabili L'Aquila rinasce Ma l'Aquila Calcio Fallisce Vergognatevi Nel giorno del termine ultimo Per presentare la documentazione Gianluca Iussi Il manager romano Presidente del CDA Non ha completato L'iscrizione Nel giorno prima C'era stato un botta In risposta Con l'assessore Piccinini E già L'aria si era capita Insomma L'assegno Non è stato depositato E neanche il pagamento Dei lode Ai vecchi giocatori L'Aquila Calcio Quindi sparisce Per l'ennesima volta Il terzo fallimento In vent'anni Nel cantiere Più grande d'Europa Dal punto di vista Amministrativo Oggi la responsabilità È di Iuss Ma le quote Sono ancora in mano Alla vecchia proprietà Un fallimento Che di certo Avrà conseguente pesanti Ora i tifosi Chiedono alla politica Che mettono comunque Sul banco degli imputati Di trovare una soluzione Per ripartire da zero Sempre in Serie D In Casa Pineto Dopo la finale playoff Persa contro il Matelica A fine maggio È tempo di ricominciare Con gli allenamenti Una rosa che è stata Rinforzata Soprattutto grazie Alla partnership Con il Pescara Confermato Daniele Amaolo In panchina Il direttore generale Roberto Giammarino Fa il punto anche Sul prossimo Campionato Di quarta serie Lo ascoltiamo Roberto Giammarino Al via la stagione Del Pineto Con entusiasmo Ma cercando anche Quella continuità Che avete Perseguito Dalla prima stagione Quella con la salvezza Poi la stagione passata Con la vittoria Dei playoff Sì dai Ripartiamo con l'entusiasmo Giusto Che questo ambiente Ti dà e ti porta Abbiamo cercato Di mantenere Il più possibile L'organico Dello scorso anno Cercando anche In limite In linea di massima Di migliorarlo Penso che Di aver fatto Un buon lavoro Chiaramente Il buon lavoro Poi lo dirà il campo Con i risultati Però Credo di aver scelto Dei giocatori importanti Per questa categoria Chiaramente Sarà sempre il campo A deciderlo A dimostrarlo Però Penso che Faremo un buon campionato Spero di Di avere un girone Bello Competitivo Spero che queste voci Che danno il Bari O il Cesena Siano smentite Perché non è giusto Mettere Tutti questi chilometri Per accontentare Delle società Che alla fine Sono scomparse Dal calcio professionistico Non per colpa Del Pinedo O di altre società Quindi Speriamo bene Nel buon senso Di queste Di chi ci gestisce Speriamo bene Si è rafforzata La partnership Anche col Pescara Attraverso cui Sono arrivati I giocatori Come Fortunato E come Russo Però insomma È importante Che l'intelagliatura Sia quella Dello scorso anno Anche con la conferma Del tecnico Amaolo Per arrivare Dove Visto che siete arrivati Così in alto Lo scorso anno Per arrivare dove Ogni campionato Ha la sua storia Noi dobbiamo fare Un buon campionato Poi Il campo Deciderà Se siamo stati Più bravi Dell'anno scorso O meno bravi E' chiaro che Far meglio dell'anno scorso Significa fare Un campionato di vertice Ma questi sono I presupposti Che tante squadre Ogni anno Cercano di creare Abbiamo una Grande partnership A Pescara Con il presidente Sebastiani C'è un grande feeling Che lega i due presidenti Le due società Stanno lavorando A braccetto Da qualche anno E speriamo Che nel prossimo futuro Ci possano essere I presupposti Per fare qualcosa Di ancora più importante Che altrimenti Senza il Pescara Il Pineto Non potrebbe fare Perché Gli obiettivi Più in alto Di quelli che oggi abbiamo Sono veramente Difficili Da pensare Senza una Partnership con una società Che è di categoria superiore Per chiudere È una rosa Già al completo O farete Delle valutazioni Per qualche Aggiustamento Allora la rosa È al completo Abbiamo messo Due giocatori Per ogni ruolo E in alcuni ruoli Anche tre Dove stanno i ragazzi È chiaro che Poi strada facendo Vediamo Il mercato si chiuderà Il 15 Il 17 Settembre Credo O il 15 Il 17 Quindi alla fine Se ci sarà Qualche problema Qualche cosa Avremmo modo Di valutarlo La squadra È al completo In questo momento Ed è tutto Anche per questa edizione Del nostro telegiornale Io vi ricordo Che tutti i nostri servizi Sono disponibili On demand Sulla piattaforma Youtube E anche sul nostro sito www.tv6.it Per il momento Grazie per la cortese Attenzione E buon proseguimento Di serata Grazie per la cortese